Sono serio, è una strada, mi incontro, carissimo, quanto sono felice, ma guardate prossimamente tra me e lui, non più giovanissimi, ci saranno un po' di matematica, bellissimo, eh? Lo ricordi? Oh, mi faremo assistere, mi faremo assistere, bene, io c'avevo la borsa però, eh? Allora mi fai vedere la tua roba, ti vedo tutti i giorni, ti vedo tutti i giorni, ma io voglio parlare con tutti voi, ognuno ha una storia, ognuno ha un sentimento, però c'è un fatto, io amando sempre molto gli altri, ma anche adesso gli altri amano meglio, è vero? E' meglio che essere... Eccovi, un momento, un momento, mi serviva il mio libro, mannaggia, oggi, il mio libro, sì, volevo dire questo, vedete? Questo libretto, il primo, tra un mese e due, o due, ne facciamo un altro, va bene? No, va bene, ok? No, il problema quale è? Attenzione, è vero Idoardo, che in Italia la teoria dei numeri è spassata in secondo ordine rispetto alla geometria e all'analisi, non hanno fatto la scuola di interia dei numeri, allora io quando sono andato in pensione ho detto, io adesso non vedrò di rendita sulle cose che sapevo, perché su quelle potevo benissimo, no, farò una cosa completamente nuova, e questa è una cosa completamente nuova, hai capito? Per fortuna ho avuto la fortuna di trovare Ennio, che si è associata a me, perché la fortuna di trovare Ennio? Voi dovete sapere che io sono cieco, cioè non riesco a leggere la sigla, eccetera, una forma di cicità, insomma, non leggo le cose che non sono inchiostrate, hai capito? Allora scrivo un libro a cieco e dico, lì patematica, ma ho trovato Ennio che mi ha sostituito in larga parte, insomma, hai capito? Le idee ce le scambiavamo, ma poi era lui che scriveva, insomma, è una storia un po' strana, eh? È una storia un po' difficile, insomma. Va bene, allora adesso questo è il primo libro. La mia idea, così forse Ennio lo sa, ma non completamente, la mia idea è questa, di fare una specie di garzantina. La garzantina, sapete cos'è? È un grosso volume che raccoglie 3, 4, 5. Perciò adesso io penso cominciare a fare un altro libro, come questo. Poi un altro ancora, quando 3, 4, fanno mille pagine, e diventa una encicloperia, diventa. Perciò io spero che tra quest'anno e l'anno prossimo avremo fatto una piccola encicloperia di numeri, che non c'è nella letteratura italiana. Nella letteratura italiana c'è geometria e io ho scritto, c'è un libro mio, qui ci sono anche le mie compagnie, dove ci sono cento teoremi. Sapete che significa cento teoremi? È come uno che solleva due mila kg? È difficile. Cento teoremi? Perché poi i teoremi hanno le proposizioni, hanno i lemmi, hanno i corollari. Perciò diventano non cento pagine, ma duecento pagine, dipendono. capite? E allora noi io spero, e contando soprattutto per Ennio Pedersi, che è una persona esemplare della matematica italiana, perché io direi una cosa che mi dovrei dirti, va bene? Che non c'è un altro matematico in Italia come Mario Perentini, perché io sono un'autodidatta, sono un'autodidatta. un'autodidatta. Se viene cacciare qua, in palle di vergogna, cacciare, cacciare. Lui dice, guardate, fino a 26 anni uno è un... bravo, è bravissimo, poi diventa... Dici, mi pare coglione brutta, non mi piace, non mi piace. Lui dice, dopo non fa più niente, perciò dopo i 26 anni le cose belle, ora è vero che ci sono stati dei geni che il giovanissimo, Mozart, non sappiamo a cui si arrivava a noi, cento anni come me, cos'era Mozart? cosa abbiamo? Forse non faceva più niente, era vero, capisci? Io invece... Io invece ho fatto... una cosa, scusate, l'unicum, guardate, nella teoria dei numeri, Enio e io stiamo studiando i numeri unici, il numero uno, che ce n'è uno solo, lo zero è un unico, è lo zero, non c'è altro, lo zero, il due, è l'unico pari, primo pari, l'undici è... il dodici è il primo numero... il numero, scusami, quelli ridondanti, i grassoni, i grassoni, il due, capito? Perciò io sul piano della matematica sono un caso unico, capisci? E Enio è un caso unico, perché in un settore della matematica molto diverso dalla mia, perché tu lo sai i miei lavori sono diversi dai tuoi, capisci? Però lui ha la sua specialità, lui è giocoso, è dei giochi, lui fa la teoria dei giochi che è la magia, teoria dei giochi e magia, è la personalità più importante che c'è in Italia in questo tipo di matematica, dove invece in America ci sono molti, in altri paesi ci sono, ma in Italia è l'unico, però gli unici che non se ne sono accorti sono i dirigenti degli organismi di matematica, quelli che dirigono la politica, che non si sono accorti né di lui né di me, perché? perché loro danno dei premi in denaro ai matematici più bravi, si sono scordati di lui, e forse anche di me, perché in tutto il modo lo dice se andate in Giappone, Mare Fiorentini, vi dicono che è, se andate nel Vieto, vi dicono che è, se andate in Polonia, se andate nel... capito? E invece non sempre le medaglie vengono date giustamente, poi adesso c'è un fatto nuovo, la sapete questa? io quando parlo di storia ai bambini, e qui ci sono insegnanti che mi conoscono, amo parlare ai bambini, di storia e di matematica dai 9 ai 12 anni, quando parlo di storia, agli insegnanti di storia gli dico, sapete? voi dovete mettere in evidenza tre fatti, la repubblica partenopea, Napoli 1799, è stato un momento dove è nato l'Italia 1799, poi la repubblica massiniana, e poi la repubblica lega nostra, la repubblica nostra, sei d'accordo? e dico, studiate queste tre cose, studiate la repubblica partenopea, la grande intellettuale portoghese che hanno messo, hanno impiccato, la sapete quando l'hanno impiccata? quando l'hanno impiccata, stava al pativolo, e lei stava così, stava e gli dicono, sapete? se hai un pensiero, va bene? Lei ha risposto questo, sì, vorrei che mi coprisse la pisella guarda che è una cosa terribile, questa grande patriota, la più grande patriota italiana degli ultimi duecento anni, si preoccupa, mi chiedono una donna, mi chiedono, è importante siamo tutti uccisi di là, hai capito? Allora io dico, la repubblica partenopea, la repubblica massiniana quando io sono scappato ai tedeschi saltando qualcosa in via Cavolecasa, là c'è una lapide dove lì ha abitato Mazziti, quando la repubblica napoletana ha abitato, io l'abitavo nella casa di Mazziti guardate che ti fa venire i brividi addosso, no? Ti fa venire i brividi addosso, hai capito? Adesso la resistenza a Roma è un fatto importante, è un fatto grande, non solo è un fatto grande ma perché ve lo dico io, ed è stato un fatto grande anche perché a dirigere questo fatto grande c'era una ragazza di 18 anni, Lucina Tomlretti, e un ragazzo... Io adesso vado nelle suole, parlo ai bambini dai 9 ai 12 anni di matematica poi quelli di 10 o 12 sulla resistenza parlo, e quando parlo mi ascoltano tutti estasiati proprio quando Laura, c'è qui Laura che dice ai bambini sapete che parlerò della resistenza poi vi farò conoscere un partigiano, un partigiano vero di carne rossa oh, sai che significa? Il carne rossa è un partigiano vero, io sono un partigiano vero, lo sono sono stato in quattro carceri, avanzi di galera, sono stato anche qui a Leggina Celi, al carcere di Leggina Celi ho dei ricordi qui, tremendi, sette colpi di pistola, quel ponte che porta qui mi hanno sparato sette colpi di pistola se di questi sette colpi uno mi prendeva un ginocchio, io stavo sul ponte che dovevo fare? avevo ammazzato degli tedeschi, stavo sul ponte ferito, che dovevo fare? mi buttavo nel forno, mi lasciavo in mano ai nazisti che mi torturavano e poi mi ammazzavano no, mi ammazzavo da solo, perciò guardate non è che scherziamo, la storia non si fa scherzando si fa con la tiratura, ma pensate a tante richiede, pensate a Leopardi sono storie grandi, sono storie grandi, capite? e anche la resistenza, anche la storia d'Italia è stata una storia grande e allora la resistenza a Roma, il numero uno femminile era Lucia Ottobrini e aveva 18 anni, la prima che ha attaccato i tedeschi, la prima, lo dice un colonnello un colonnello dello stato maggiore, dice la prima c'era Gioacchino Gelmundo, professore di filosofia eccetera va sul suo istituto, dice bisogna salire da sopra a Lucia e da qui a attaccare i tedeschi e Lucia è la prima che attacca i tedeschi aveva proprio 18 anni, ma insomma sennò non veniva mica, guarda, sennò oggi non avremmo avuto la medaglia d'oro a Roma se non c'erano alcune persone che hanno... e noi vi auguriamo è questo è che Ennio ed io nei prossimi due tre anni io non mi do più di tre anni di vita però... 50, 50 noi faremo delle cose importanti io lo spero naturalmente e poi dopo... va bene? grazie 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 guardate che carino eh io ho i bambini i bambini c'è qui Laura che lo può dire, lo sa allora un bambino di 9, 10 anni, 11 anni che cos'è lo zero? va bene? ecco è un unicum un unicum è unico è l'unico numero che non è numera è chiaro? è l'unico numero che... l'uno è numera hai capito? poi è... ha la numerosità dell'insieme infinito va bene poi la terza lo zero e l'infinito sono gemelli allora Brunetto il mio assistente che ha 12 anni ha 10 in matematica 10 in matematica hai capito? c'ha 10 in matematica ити non c'è nessuno che ci ha detto allora... Brunetto salta su ma professore che ci sta raccontando lei qui racconta delle stupidaggine zero e infinito sono gemelli ma zero è un numero l'infinito non è mica un numero l'infinito è il capitale l'infinito potenziale l'infinito attuale l'infinito assoluto la parola infinito a questa parola si associa una serie lunga di infinitanti e sono cose diverse come fanno? ma lei ci sta raccontando male allora io gli devo spiegare che Peano il più grande scienziato italiano di Madevale eccetera ha ragionato e ha mostrato che non è che sono la stessa cosa però hanno un comportamento rispetto alle operazioni è tutto uno studio parla Peano il più grande scienziato italiano dell'ottocento quello in Francia c'è una grande scuola che ha inventato un amico c'è una cosa che ha inventato Peano non hanno preso Peano il modo di ragionare la tipologia le parole le cose le cose che hanno presi ha capito e questo parlavano allora è chiaro che Brunetto rimane un po' impressionato perché insomma parlare di infinito non è una cosa facile e semplice no te lo ricordo tu non sai cos'è l'infinito attuale e l'infinito potenziale perché anche me era l'infinito attuale non era l'infinito potenziale no era l'attuale è potenziale invece Aristote era soltanto infinito potenziale va bene tutto questo è raccontato qui ma come fosse un romanzo capite tutto quando leggete questo capite tutto perché questo è uno schiaffo che noi abbiamo dato a due grandi matematici e Giuseppe Baccella tu che sei un grande esperto di algebra e Serneci che sei un grande esperto di geometria e di algebra va bene? allora insomma sono argomenti interessanti sono argomenti studiati invece no però qui sono raccontati in maniera abbastanza semplice abbastanza noi abbiamo scritto 15 pagine sull'infinito sono facili insomma si leggono si capisce molto ma non è che si capisce tutto Ennio Ennio e io siamo due presenze uniche nella matematica italiana io perché sono notodidatta Ennio perché fa magia a magia un mago fa la magia lui è un esperto di magia è un esperto di giochi fa una serie di cose tante cose guardate su internet quello che parla va bene? io vi sto staccando? volete che vi parli di altre cose? ma la matematica è bella la matematica è una cosa ma io come l'ho capito la matematica aveva 13 anni l'ora corso in una piccola libreria in Pianasella piccola libreria trovo un libro e lo pago 5 lire è un libro di Euclide che dopo la Bibbia è il libro più bello della storia umana perché fa la storia della matematica la matematica dicono che la matematica è brutta non sono pazzi qui non capiscono le cose essenziali la matematica quando uno di noi chiede a Bacella chiede a Cernesi trova un teorema sai che significa dare un teorema ma il teorema lo devi dimostrare quando tu fai un teorema e lo dimostri alla fine hai una gioia che ti riempie l'animo io ho fatto 100 teoremi ma alcuni di questi teoremi e uno dei più importanti l'ho fatto quando ancora non ero laureato in matematica capite è andato in tutto il mondo l'hanno ripreso 5-600 volte in Giappone in Vieto in Inghilterra eccetera capite la gioia che c'è di risolvere un teorema è vero un fatto guardate è una cosa importante leggete io ho fatto una cosa scusate se parlo di me ma è giusto se parlo di me su internet ho fatto 5 ore di matematica su internet è una cosa importante ma queste 5 ore si capisce quello che ti dico non è necessario che sei una specialista capisci certi fatti si capisce ed è bene leggerlo insomma no perché io lì ho fatto i miei 13 maestri parlo dei miei 13 maestri io voglio dire a Bacella a Cernesi conoscete voi dei colleghi che parlano dei loro maestri che parlano di loro no a Vadovaria chi è che l'ha fatta chi è che non è che riesce a sapere chi è bravo chi è bravo e di fatti poi quelli che sono i padroni del vapore non danno riconoscimento a Elio e non danno riconoscimento a me tanta gente non capisce non sa ma noi lo vediamo io ho avuto questa fortuna difatti io sono abituato a dare interviste negli ultimi tempi 50 60 ogni giorno perché c'è interviste telefonate eccetera eccetera capisci è molto importante capisci allora bisogna però far capire la gente io ho fatto una cosa strana i miei tredici maestri quattro maestri italiani Francesco Severi matematico Beniamino Segre grande matematico ebreo Giuseppe Gerardelli Giuseppe Gerardelli è una storia sì è la storia più triste che io conosco della matematica perché Giuseppe Gerardelli ha dato due teoremi sulle curve algebri sghembe di PN che sono due dei più importanti teoremi ma lui non sa che sono dei teoremi importanti ed è morto subito dopo allora c'è Mariuccio io che mi sono messo a studiare questo e ci ho messo 12-13 anni a far conoscere a tutto il mondo tutti in ingresa dovevo scrivere se non scrive l'ingresa non sapeva niente perché Gerardelli ho scritto in italiano ho scritto poi è morto subito hai capito e tutti orem o Giuseppe Gerardelli ho scritto in inglese e tutto il mondo dopo tanti anni ha saputo che avevano fatto due teoremi importanti guardate è una cosa tragica perché c'è quello il cui riconoscimento viene dopo va bene ma se tu hai fatto una cosa importante e anche se tra 5 anni 10 anni si sarà acclarata però ma non l'ha saputo e io ho avuto uno scontro con uno dei più grandi matematici del secolo che è uno dei miei 13 maestri per questo perché lui ha pubblicato il teorema di Gerardelli senza citarlo ha capito e io ho rimpolverato lui però dice c'era la guerra e allora i rapporti non si conosceva io non lo sapevo si è difeso in questo modo va bene però dite che smetto sulla matematica si eh parlo della resistenza si però quando io parlo della resistenza guardate ai bambini eccetera loro mi chiedono un filmato mio che voi trovate là fuori il filmato dice l'uomo dai quattro nomi l'uomo dalle quattro carceri allora l'uomo dei quattro nomi sono io io all'inizio avevo nome di battaglia Giovanni me l'aveva messo Gioacchino Gelbondo perché per quale motivo perché io sono stato il primo partigiano cioè ho fatto la guerra partigiana col nome di battaglia di Giovanni lui mi ha dato il nome e il nome di battaglia di Giovanni che è un nome evangelico a Lucia l'ha chiamata Maria a Rosario Pettivigni l'ha chiamato Paolo a Franco Pietro ha preso i nomi degli apostri lo ricordate i capisti i terribili capisti romani avevano i nomi degli apostri insomma è una piccola comica no è un po' strano no ma come si dice io mi chiamavo Giovanni poi dopo vado a un certo momento Ganni c'era una lineone salta pure dalla parte Ganni Ganni mi abbraccia perché il secondo nome che avevo non so dove era Ganni Giovanni Ganni poi io sono stato paracadutato tra la Laguna e l'Emilia da un apparecchio quando sono stato paracadutato a terra c'era Fausto Cosso un ufficiale dei carabinieri che comandava una divisione partigiana e stava di sotto a vista di fare questo fringuello perché era magro era molto magro hai capito scende dal cielo questo qui magro e mi dite fringuello e mi spinghi fringuello è magro no viene dal cielo hai capito fringuello è il secondo nome che ho avuto poi insomma il primo Giovanni il secondo Ganni il terzo il quarto Dino perché c'è un motivo che non vi dico adesso è bella questa storia poi quello che è bellissimo sono le mie carceri perché io rendo le carceri e cose difficili che diventano cose alleghe e le racconto una qui sono attenti perché poi mi impallelano a me mi impallelano perché io sono un partigiano combattente più decorato d'Italia però dicono che sono il più vicino di fina ai fascisti e monsolini e io mi accuso mi ripote poi mi assola mi assola se io dico qualche cosa favorevole a monsolini capito allora dieci giorni fa ho scritto un articolo e in questo articolo dico una frase batate una frase blasfema blasfema così giudicata perché voi sapete ci sono gli anticomunisti viscerali e gli antifascisti biliosi sono due pericoli tutti e due è chiaro non so qual è più pericoloso non dico qual è più pericoloso perché non mi viene mi viene subito allora io dico questo attenzione Mussolini a un certo momento ha fatto un atto coraggioso meritevole di lote quando lui ha mandato al Brennero le truppe per impedire che Hitler occupasse l'Austria hai capito è stato un gesto molto pericoloso perché Hitler poteva farla abbassare con un cane ci voleva poco a far abbassare non gli dava alcuni fascisti di quelli duri e voglia ammazzare io ho detto questa frase Mussolini ha fatto un atto coraggioso che va premiato però Francese e i greci non l'hanno capito e non l'hanno aiutato e si è trovato isolato Mussolini se non si fosse trovare in questa società la storia che avrebbe forse cambiato la storia avrebbe cambiato capito allora la gente che ragiona anche sulla politica insomma la storia deve giudicare se è vero quello che dico io che Mussolini poi io dico un'altra cosa di Mussolini che riguarda me Lucia io mi chiedono quando hai conosciuto Lucia allora io dico al tempo del fascismo c'era una bella iniziativa che in alcune piazze come Arpici eccetera suonavano dei concerti di musica e lì c'era Lucia e la sorella che parlavano francese io siccome per me il francese è una seconda lingua a un certo momento ho dato qualche spiegazione capito tra me Lucia si è acceso un fuoco dubbio hai capito e poi ci siamo richissi a un concerto allora io ho fatto l'elogio del fascismo che faceva la musica in piazza a Villa Borghese eccetera che era una bella cosa noi dicevamo di male no non dicevi niente di male hai capito allora tu fai l'apologia del fascismo hai capito e adesso mi accusano che io sono un filofascista e sono cose semplici che potrebbero accadere anche a voi perciò io ho infilato due due tre cose diciamo in quel fascismo e l'architettura fascista è stata interessante innovativa rispetto a usano sanno lupi e dire il c'è di male il c'è di male capito scusate se io salto di palo frasca vorrei che adesso parlare secondo me scusate 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 no questo lo dicono io sono ecco 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 è accavarato è vero? allora grazie Mario grazie il primo microfono si è scaricato scusate c'è un luogo di parla di Lucia parla di Lucia Lucia è una persona no io intanto direi di ringraziare tutti i presenti e di ringraziare intanto le persone che sono con noi che parleranno di Mario cioè c'è il professor Salmei direttore della rivista matematica e oplide che è una rivista per i giovani una rivista di matematica per i giovani non per i 12 anni quelli sono i miei che interessano noi 12 anni probabilmente cominceremo da lui se il Mario è d'accordo c'è il professor Sandro Portelli il direttore del circolo Bosio che fa un grande lavoro storico e che ci parlerà c'è la presidente nazionale dell'AMPI Carla Nespolo che è venuta eccola ecco Carla dell'AMPI ci sono i partigiani romani che sono venuti anch'essi ad abbracciare con affetto il nostro Mario dell'AMPI sono venuti diversi compagni in realtà è venuta Vania Vania Bagni che è la presidente dell'AMPI di Firenze e della Toscana vicepresidente nazionale è venuto Piero Cossu che è dell'AMPI della Sardegna vicepresidente Cossu ne parlavi prima di Cossu eccolo c'è il compagno Patrick Zuliani dell'AMPI del Friuli Venezia Giulia è venuto anche lui del Comitato Nazionale la compagna Floriana Rizzetto che è la presidente dell'AMPI di Padova e da tutta Italia la compagna Raffilosa che è la presidente dell'AMPI di Latina adesso abbiamo rifatto l'AMPI anche a Latina e Vincenzo Caloc che è il responsabile dell'AMPI meridionale coordinatore delle AMP meridionali c'è Sara Modigliani anche lei del circolo Gianni Bosio c'è la nostra Tina Costa del Comitato Nazionale ci sono fuori avete visto dei libri l'ultimo cappista su Mario di Mirko Bettazzi che è di recentissima pubblicazione il libro che è uscito oggi di matematica di Mario questo libro uno zero infinito questo dovete guardarlo in tutte le scuole perché conoscono la matematica i giovani e i bambini è una grande cosa perché tutto dipende dall'inizio perché c'è in una parte della popolazione per fortuna che sta diminuendo di dire la matematica è ostica la matematica è estrusa perché perché hanno cattivi maestri se hanno a me io ho insegnato ma mai uno mi ha venuto a dire la matematica è ostica è difficile eccetera andate c'è qui la mia compagna dell'università di Bologna ma ma non è non è non è bene alz si Mirella è una maresci l'ho conosciuta perché non era studente non era ancora adesso sono un vecchio professore ma è una bambina mi conosce bene poi è più giovane adesso che allora volevo aggiungere che sono idealmente con noi anche le autunità perché non posso essere presenti hanno portato il saluto sia il presidente della regione Nicola Zingaretti la sindaca della città di Roma Virginia Raggi il sindaco di Napoli Luigi De Magistris insomma una serie di autorità elette quindi rappresentanza di tutti i cittadini hanno voluto salutare Mario e visto che abbiamo cominciato con la matematica continuiamo con la matematica e quindi diamo la parola al professor Salmeri e poi passiamo alle altre cose sarà diciamo il compagno della mia nuova gioventù perché insieme neanche due più 106 anni passiamo 187 anni passiamo insieme nei prossimi 13 verrai come camminere come no ha fatto una relazione su di me mi dirà che sono io allora prima di tutto ringrazio le autorità dell'ANPI che mi hanno permesso di salutare personalmente in questo giorno l'amico Fiorentini Mario Fiorentini e quindi dopo tutti i discorsi che sono stati parti a me non mi non è altro che parlare delle sue tre vite per tre ore parlerò della vita artistica per cinque ore dell'attività artigiana e per 25 ore dell'attività di matematica preparate in cui è vero è vero forse forse non c'è il tempo per fare tutte queste cose e allora io ho pensato di fare normalmente quando uno fa un compleanno un compleanno specialmente un compleanno molto importante si fa un regalo ma che che regalo si può fare a una persona come te che ha vissuto tanto ha dato tanto a tutti tutti i comini allora l'unico regalo siccome io sono direttore di una rivista di matematica per i giovani perché cerco di aiutare i giovani allora ho voluto dedicare un numero di questa di questa rivista all'amico Mario ed è questa che io do che cosa c'è in questa rivista quindi questa è tutta dedicata è tutta dedicata a lui e ci sono praticamente i pensieri di le testimonianze di affetto di stima di tutte le persone che lui ha conosciuto e quindi e ci sono quelle di Maria Teresa Borgato che è stata una sua alumina e che è stata anche che insegna all'università di Ferrara la conosce la Borgato la moglie di Vini Beppe di un certo Fabrizio De Santis che non so chi sia la mia sudale che sopra le spalle che dipende dagli attacchi un bellissimo ricordo di Michele Enner che risale l'amicizia tantissimi anni fa poi c'è un video perché nel titolo basta cliccare questo qui e c'è un intervento in una mia conferenza fatta presso la Matesis e quindi c'è tutto l'intervento suo non c'è la mia conferenza ecco ve lo farò vedere poi c'è un pentiero di Franco Rione che insegna all'università e poi ci sono poi ci sono i ricordi di due insegnanti del liceo Cavour dove tu andavi a parlare con i giovani eccetera e sono la professoressa Serena Marini e il professor Luigi Narducci perché hanno scritto tutto che me l'hanno mandato e io ho pubblicato ricordo io c'erano tante interviste persone mica vi ricordo tutti anche voi no no c'è poca memoria poi c'è una bellissima intervista fatta da Pietro Anastasi che ho voluto riprodurre qui poi c'è un intervento del professor Luigi Pepe dell'università di Perlara un grande amico napoletano storico poi c'è un intervento di Alessandro Portelli che però non me l'ha mandato lui un intruso praticamente siccome non aveva tempo ed era in viaggio ed era in viaggio così mi ha scritto allora io l'ho ricavato dal suo bellissimo libro ho ricavato tutte le frasi che riguardavano Mario Fiorentini e quindi ho fatto un intervento in questo genere ma voi non vi raggiungi lo spazio per chi se ne mette infine poi c'è un intervento un biglietto d'augurico di come lo chiama del professor Edoardo Sernese e poi e poi c'è un un lunghissimo intervento di Antonio Salmeri che vuole essere una brevissima biografia di Mario Fiorentini quindi con le fotografie delle persone che ha conosciuto eccetera in più alleggo anche una la riproduzione di una sua pubblicazione presso gli atti dall'Accademia dei Lincei e poi e poi aggiungo un'altra cosa lui ci tiene moltissimo a un libro che lui ha scritto negli anni settanta col professor Marcello 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 e quindi che lui ha detto mi dispiace ma questo libro non ti trova su internet quindi avendolo pubblicato quest'opera adesso tutti quanti possono venirlo a conoscere quindi questo ecco questo è il omaggio che io ti faccio dove c'è anche questa cosa mi dice il titolo della rivista per favore Euclide Euclide è online euclide la rivista è Euclide si vuole prendere nota scusa 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 questo è per noi forse ah questo è il è il convenzato è il convenzato questo è per Fabrizio De Santis grazie grazie questo è per Antonio Parisella non c'è Antonio Parisella no oggi no perché stamattina ha detto che ha avuto un impedimento della sua età forte capita ma guarda che bella coppia di parte partici giovanini due matematici giovanini siccome lui ha fatto moltissimo per i giovani Euclide la scelta il giornale di matematica per i giovani ha voluto destinare una pergamina una pergamina che bella che bella la scelmiamo al muro insieme mi dispiace non parlo delle 45 ore che avevo prometto grazie grazie adesso ci andiamo a cambiare argomento una canzone e poi parla una canzone e poi parla lui diamo la parola a Sara Modigliani che ci introdura a un altro argomento l'argomento no l'argomento è lo stesso perché facciamo un canto partigiano un canto partigiano molto importante e molto bello se parla al microfono poi non posso cantare al microfono c'è vero di là e vabbè allora facciamo un canto scritto da le parole sono di Italo Calvino che è stato partigiano nella brigata alfina e la musica e la musica è di di Fiorenzo Carpi bene allora si intitola Oltre il ponte oh ragazza dalle guance di pesca oh ragazza dalle guance d'aurora io spero che amarrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora copri fuoco la truppa tedesca la città dominava siamo pronti chi non vuole chinare la testa con noi prenda la strada dei monti avevamo vent'anni e oltre il ponte oltre il ponte che in mano nemica delle vaga trariva la vita tutto il bene del mondo oltre il ponte tutto il male avevamo di fronte tutto il bene avevamo nel cuore a vent'anni la vita l'abbiamo Grazie a tutti.